... Avete presente quelle notizie, in questo caso calcistiche, che vi fanno rizzare i peli del culo soltanto leggendo il titolo e le prime frasi? Ecco, non volevo essere volgare, ma è esattamente la reazione che ho avuto io leggendo l'articolo inerente a un'indiscrezione clamorosa che ha lanciato il tabloid inglese The Telegraph. In parole povere, in queste ultime settimane, in questi ultimi giorni, il Real Madrid avrebbe tentato seriamente di convincere Mourinho ad abbandonare il progetto giallorosso per diventare il nuovo allenatore dei Blancos. Incassato il successivo no del portoghese, che ha deciso comunque di confermare la parola data alla Roma, il Real Madrid si è affidato a Carlo Ancelotti, un altro allenatore ex Serie A, diciamo, che anch'esso ha allenato il Real Madrid un po' di anni fa. Credo sia arrivato proprio dopo lo stesso Mourinho, quindi si può dire che loro sono andati a scaletta in base agli allenatori che hanno avuto in passato. Allora, vi premetto fin da subito che questa notizia mi ha veramente messo paura. Mi ha messo paura perché mi ha confermato come le Big vogliano e spesso possano fare quello che gli pare. Nonostante Mourinho abbia annunciato a tutto il mondo che da ormai metà maggio diventerà a breve il nuovo allenatore della Roma, comunque, se questa notizia fosse confermata, hanno voluto parlare con Mourinho e cercare di convincerlo, sicuramente offrendogli una bella somma per diversi anni, a scegliere la causa dei Blancos, fregandosene altamente del fatto che lui abbia già dato la parola alla stessa Roma. Oltre a sperare il primo possibile che arrivi il 30 giugno, più o meno, nel senso, quando sono questi giorni belli di sole e tutto, si spera che vadano avanti il più lenti possibile, però sotto questo punto di vista non vedo l'ora che si arrivi a questa data, ma indipendentemente da ciò, trovo disgustoso, diciamo, l'atteggiamento del Real Madrid, lo sottolineo, qualora la notizia fosse vera. Apprezzo il fatto che Mourinho si sia comportato da signore e abbia confermato che ormai ha sposato il progetto Roma e non può abbandonarlo ancora prima di cominciare, ma anche solo aver provato a rompere le palle, diciamo, all'allenatore per farlo andare a Real Madrid, solamente perché, tu sei il Real Madrid, mi ha dato molto, molto fastidio. Sono contento della scelta finale, ma anche solo essere venuto a rompere i coglioni è un atteggiamento che non mi è piaciuto. Poi, ve lo ripeto, io sono uno che ha sempre un po' paura di tutto. Diciamo che la Roma in generale mi ha abituato a spiacevoli sorprese dell'ultimo minuto, come il caso Malcom, anche se in quelle occasioni non è che abbiamo avuto particolari colpe noi. In generale, però, forse anche per l'euforia che è venuta fuori e forse anche per l'incredulità che tuttora ho che Mourinho possa venire ad allenare la Roma, questa notizia mi ha veramente messo preoccupazione, mi ha veramente messo paura. Spero ovviamente che il prima possibile arrivi questa strabenedetta firma. Purtroppo prima ci sarà tutto quanto l'Europeo, con Mourinho che ha tra l'altro un accordo per fare il telecronista di queste partite, quindi sarà un pochino impegnato in queste settimane di europeo, ma mi auguro che subito dopo arrivi subito questa firma, che finisca con tutto il bene che gli si può volere, il contratto di Fonseca e si possa cominciare il ciclo con il nuovo allenatore portoghese di nazionalità stessa, ma comunque di livello decisamente superiore. Poi mi sembra anche strano, cioè mi sarebbe sembrato strano che Mourinho decidesse di accettare la Corte del Real, perché uno, comunque i soldi li prende anche da noi, non è che è venuto qua con lo stipendio regalato, e due, già adesso sta portando avanti un progetto importante, fatto di acquisti, cessioni, analisi della Rosa, secondo me ci avrebbe fatto anche lui una brutta figura, scegliendo magari il Real Madrid dopo aver annunciato a tutto il mondo che sarebbe arrivato alla Roma, a meno che appunto di cose clamorose come litigi, grattiamoci, con la presidenza è tutto, mi sembra difficile appunto pensare che lui abbandoni un progetto prima di cominciarlo, perché comunque ne va anche della tua professionalità, così non daresti un'immagine seria di te. Poi certo, mi viene a dire, alleno il Real Madrid e c'è poco da controbattere, però farlo dopo che tu hai trovato un accordo con noi sarebbe veramente, veramente ingiusto nei nostri confronti, quindi sono contento che a quanto pare Mourinho abbia detto di no per ben due volte al Real, che è vero che dicono ha avuto solo un interessamento interlocutorio, ma tu comunque non lo devi avere, perché Mourinho ha già l'accordo con la Roma e quindi devi stare zitto e non rompere i coglioni, e sono contento appunto che abbia deciso di mantenere una via professionale. In ogni caso non vedo l'ora che firmi, non vedo l'ora che ci sia l'ufficialità, poi certo sento in giro di presentazioni iper folcloristiche con maxi schermi in tutta Roma e questo e quell'altro, io forse perché sono un pochino più timoroso, ma ci andrei un pochino cauto, nel senso non si può usare l'Olimpico come previsto perché c'è l'Europeo e va bene, non si può fare niente di esaltante, niente di clamoroso perché c'è il Covid, ok, però va bene anche una presentazione magari, non lo so, al Flaminio, che ne so, magari non con tanta gente, magari con una diretta tv o quello che volete, ma fino a un certo punto, cioè mettere i maxi schermi in tutta Roma mi sembra un pochino esagerato, in ogni caso se ciò succederà mi va bene allo stesso perché comunque vuol dire che si è arrivati alle ufficialità di Mourinho alla Roma, sono tanto curioso di vedere come porterà avanti questo progetto, quali saranno i risultati, se positivi o negativi, ma indipendentemente da ciò il fatto che lui abbia rifiutato un'offerta così importante perché il Real è indubbiamente una squadra più importante che ti permette più vittorie rispetto alla Roma, sono contento che il Portoghese abbia deciso di portare avanti una direzione coerente e spermo ovviamente che possa portare i risultati che tutti quanti noi ci auguriamo. Detto questo ragazzi allora fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate della notizia clamorosa che possiamo dire che ha sparato fuori il tabloide del Telegraph, fatemi sapere se siete contenti, se siete arrabbiati anche per il gesto che ha fatto il Real Madrid fregandosi in altamente dell'accordo che l'allenatore aveva con la Roma, vi ricordo anche di lasciare un mi piace per supportarmi e se volete, se non avete ancora fatto, un'iscrizione al canale, nell'ultimo periodo stiamo andando molto bene e sono contento di ciò quindi cerchiamo di non fermarci qua e se volete potete seguirmi anche su tutti gli altri miei profili social, al secondo canale di gaming che ripartirà a breve, profilo sul sito Viola, profilo Instagram, pagina Facebook, di tutto e di più, i link sono in descrizione, poi c'è anche il sito Calcio2022, codice sconto GG94 15% in meno su ogni vostro acquisto, tutti i link li trovate in descrizione. Un saluto, ci vediamo presto per un nuovo video che spero sia il video sui giocatori che terrei e svolognerei della Roma, spero di riuscire a montarli in tempo, un saluto e sempre e comunque, forza Roma! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi!